Buonasera, grazie di essere così tanti, di essere venuti a dimostrare che quello che accade nei palazzi non ci spaventa, anzi ci rafforza perché loro fanno una legge elettorale porcata e noi ci inventiamo un evento qui a Marino che si chiama condivisione, noi non facciamo liste bloccate, non ci inventiamo nulla di nuovo ma condividiamo insieme un sogno e Rousseau è un sogno che sta diventando realtà, forse ci mettiamo un pochino di tempo ma le cose le facciamo bene, qui sembra che tutto debba accadere tra oggi e domani e questa è una delle cose più pericolose che io sto notando che accadono nella politica, guardate anche questa legge elettorale, è stata fatta per i prossimi 15 giorni cioè questi sono gli accordi che hanno fatto da qui a 15 giorni perché se poi Berlusconi si sveglia e dice che invece della Lega forse gli fa più comodo qualcun altro state sicuri che la Lega questa legge elettorale non la vota più perché tutto è in funzione di quello che dava accadere da qui a un mese noi abbiamo un progetto più ampio, abbiamo un progetto che riguarda i prossimi 20 anni, che riguarda finalmente il paese e non i culi sulle poltrone che si rinnovano di anno in anno e di legislatura in legislatura noi siamo ambiziosi, sì ambiziosi al punto di chiamare con un mention, con un messaggio le persone in piazza e riempire una piazza siamo ambiziosi al punto di creare a distanza di 20 giorni da Rimini un altro evento qui nel Lazio stracondiviso e strapartecipato da tutti e questo è anche il progetto che si sta sviluppando su Rousseau grazie a due nuove funzioni una attualmente già attiva che è Call to Action, doveva essere qui con noi anche Roberto Fico che saluto nel cuore di tutti che che se ne dica ma questo è un gruppo che va avanti confrontandosi, discutendo ma indivisibile nonostante le hanno provate di tutte e Call to Action è una funzione che ha dato vita un po' anche a questo abbiamo detto non facciamo che qualcuno, un politico, un portavoce crei l'evento e le persone vengano crealo tu l'evento, dimmi che cosa sta accadendo nel tuo paese, nella tua città, nel tuo quartiere mettilo su Rousseau, chiedi a chi ti è vicino e che ti può contattare di condividere con te quel problema e risolviamolo, questo è cambiare il paradigma, c'è sempre qualcuno che dall'alto ci ha dovuto dire qualcosa devi fa questo, devi fa quello, sei obbligato, ti hanno detto, noi stiamo dicendo facciamo il contrario dici che cosa ti serve e noi ci mettiamo a disposizione e il mettersi a disposizione che sapore differente che ha nel Movimento 5 Stelle, quante telefonate abbiamo sentito quante intercettazioni sono a disposizione, ecco noi siamo a disposizione dei cittadini del popolo italiano e di nessun banchiere, finanziere, lobbista che chiama e che ha una schiera di politicanti a disposizione, noi l'unico persone quelle quali veramente ci siamo messi al servizio è stato il paese ed ogni giorno chiediamo a voi se quello che stiamo facendo è fatto bene e in quest'ottica dovrà vedere vita quella che è la funzione attivismo e della quale sono responsabile che con Enrica ci abbiamo ragionato sopra per tantissimi giorni perché cosa significa attivismo? Qualcuno un tempo fa pensava che attivismo fosse quanti giorni ho fatto il banchetto, quanti volantini ho dato, quante volte sono venuta a una manifestazione, attivismo è ogni mattina che ti svegli se scegli quando mangi la merendina di buttare la plastica nella plastica piuttosto che nell'indifferenziato, attivismo ogni volta che vai ad acquistare un prodotto avere l'accortezza di guardare da dove arriva quel prodotto perché è inutile che noi facciamo le battaglie per l'olio che arriva dalla Tunisia e poi quando vai a comprare un litro d'olio non guardi nemmeno che cosa c'è scritto sull'etichetta, diventa tutto un parlare, un raccontarci ma l'attivismo deve essere qualcosa che nasce da dentro, deve essere la voglia di sentirsi veramente un 5 stelle, quando ti dicono che cosa è è un 5 stelle, allora ve la racconto perché tanto poi vabbè, io ne faccio una al giorno, ormai me conoscete l'altro giorno scendo e volevo buttare il mio sacchetto di umido, carino, piccolino, mi avvicino al secchio e c'era un signore con un sacco di amonnezza così, mi guarda e mi fa, ah però sta amministrazione, amonnezza ma che io ho detto? Tutta indifferenziata là dentro, vero? Cioè, che cos'è? Tutta plastica? Io ho detto, ti immagini se stavi in Svizzera? A te ti arrestavano, dopo te che sono nata a casa e qua dentro avevo l'odio perché la gente si lamenta ma non ha capito che il cambiamento sono loro non c'è nessuno che ti cambia la vita, se non sei tu che per prima decidi di cambiartela non devi andare a cercare qualcuno che ti dice che deve fare, sei tu per primo che devi essere artefici del cambiamento che stai chiedendo e allora mi sono messa su Twitter e ho scritto, ah ma vi avevate tutti in Svizzera prima? Perché tutti si lamentano ma non ce n'è uno, uno quando noi siamo stati eletti anche a Roma non abbiamo detto cambieremo Roma, abbiamo detto la dobbiamo cambiare insieme questa città chi oggi si sta lamentando e non si mette a disposizione del cambiamento non ha capito che cosa sta succedendo in questo paese, la rivoluzione è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione che deve partire da qua dentro e da qua dentro, non ci sono leggi scritte che ti dicono che devi essere onesto, non ci sono leggi scritte che ti dicono che devi essere moralmente partecipe alla vita del tuo paese, nessuno ti scrive queste cose se non ce le hai scritte tu dentro e dobbiamo lavorare in questa maniera dentro di noi partendo dalle scuole puntiamo tanto sulla cultura, è qualcosa che è stata svilita, annichilita anche dalle scelte assurde di chiedere ai ragazzi oggi di avere una laurea, un master, 14 specializzazioni e poi con tutto il rispetto per la persona però mi vergogno di avere un ministro della cultura e dell'istruzione con la terza media mi dispiace ma sono cose che un paese che chiede ai propri giovani ogni giorno un sacrificio in più una competenza in più deve lasciare che questa classe politica dia l'esempio e purtroppo sono un pessimo esempio io chiudo qui il mio intervento su activism, chiudiamo insieme, vi prego di venire così salutiamo quello che era lo spazio dedicato a Dopen Rousseau, una piattaforma che è veramente quello che il Movimento 5 Stelle vuole lasciare in eredità, noi abbiamo cominciato con una proposta popolare che chiedeva tre cose ben precise non più corrotti in Parlamento, due mandati e poi a casa e poter votare con le preferenze quello che lasciamo noi in eredità è veramente la possibilità che visto che tanto hanno messo pure i condannati sul nome direttamente del simbolo del capo politico, non ci hanno dato le preferenze noi però siamo coerenti, due mandati e poi a casa e Dopen Rousseau è l'eredità che lasciamo ad ognuno di voi grazie, grazie Dome, Gianfri grazie, grazie, grazie